Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. A Castrocello dal 27 luglio al 5 agosto, presso l'area archeologica di Aquinum, il comune di Castrocello organizza, per il decennale degli scavi, l'open day archeologico con apertura al pubblico dell'area archeologica, visite gratuite agli scavi e numerosi eventi e rappresentazioni in programma, tra cui sabato 28 alle 18, il saluto delle autorità e la presentazione dei risultati della decima campagna di scavi. A Vico nel Lazio, fino al 30 luglio, la confraternita di San Giorgio organizza la festa del Santo Patrono San Giorgio, con numerosi eventi religiosi e civili in programma, fede, tradizione, musica e magia, tutto per riportare agli antichi fasti la festività del Santo Patrono. A Monte San Giovanni Campano, fino al 30 luglio, in località Nitrella, festeggiamenti in onore di Sant'Anna, con numerosi eventi religiosi e civili in programma. A Veroli, fino a domenica 29 luglio, appuntamento con la 19esima edizione dei fasti verolani Veroli Festival, il Festival Internazionale del Teatro di Strada, offre 5 giorni all'insegna del divertimento, della cultura, dell'arte circense e della giocoleria, della musica e della poesia, del teatro di figura, del mimo e del teatro acrobatico, con la danza verticale. A Castrocello, fino a sabato 28 luglio, appuntamento con la 24esima edizione del Palio delle Contrade. A San Donato Valdicomino, dal 27 al 29, appuntamento con Via di Banda, il Festival delle Bande Marcianti e degli Artisti di Strada. Venerdì 27 ad Alvito, presso il Castello, ultimo giorno di eventi per la prima edizione di Castello in Aria, Festival di Teatro Pop. Sabato 28, apposta Fibreno, a partire dalle 20, presso l'area Picnic di San Venditto, si tiene la decima edizione della Sagra della Ranocchia. A Dalvito, dalle 20, lungo Corso Gallio, appuntamento con la quarta edizione di Firminio, Lucide Estate, presentazione della nuova collezione Autunno-Inverno 2018-2019, Contaminazioni, con il DJ set di Daniele Palombo e Valerio Danna. Adamo D'Agostino disegnerà in esclusiva per Firminio, su alcune borse in vendita della nuova collezione. Domenica 29 a Castello dei Volci, dalle 18, appuntamento con una Domenica nel Borgo, sfilata in costume rinascimentale, falconieri e artisti di strada. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 72 8035, oppure scriveteci a weekend-teleuniverso.it.